Musica Sono recentemente venuto a conoscenza di quest'app da mio caro amico Marco Gabbana Marco Gabb con 3 B su Twitter Si chiama Note con due O e il suo compito è semplice, scrivere note, punto Grazie al design molto minimale ci permette di farlo con eleganza e semplicità Appena aperta avremo una schermata vuota dove potremo creare diverse cartelle Dentro le quali scriveremo le nostre note Quando saremo nella nota potremo scriverla con tutta tranquillità Avendo in alto a destra un conteggio dei caratteri Salvata la nota potremo personalizzare la nostra esperienza di scrittura Cambiando font, ingrandendo o rimpicciolendo il formato e modificando il colore Le sue funzionalità sono finite qui Ma se vi serve per semplici appunti O non avete bisogno di cose estremamente complesse e piene di funzioni Fa proprio il caso vostro E in più è gratis Quindi non vi sono proprio motivi per non provarla Qui era Andrea Patrono per Justin Apple E per oggi è tutto E per oggi è tutto